3 frullati naturali per combattere stress e ansia . Anche se lo stress e lansia sono due meccanismi di difesa che ci permettono di anticipare certe situazioni, per cercare il modo migliore di affrontarle, non sempre sappiamo gestirle nel modo giusto, ci sovrastano. . A volte, dei fattori biologici come la nostra stessa predisposizione o il dover vivere delle situazioni nelle quali ci viene richiesto di fare meglio di quanto possiamo, ci spingono ad entrare in uno stato di ansia che influisce negativamente sulla nostra salute. . Imparare a gestire queste situazioni, stabilire delle priorità e farci sostenere da persone che sono in grado di aiutarci, è sempre utile per sentirsi meglio. Inoltre, un'abitudine tanto semplice quanto stare attenti alla propria alimentazione, ha molti benefici per la salute. . Il cibo che assumiamo influisce direttamente sul modo in cui ci sentiamo, sia fisico che psicologico. Per questo motivo, nel nostro articolo di oggi vogliamo presentarvi tre deliziosi frullati che vi aiuteranno a combattere lo stress e lansia. . . Che ne dite di prendere appunti? Frullato di mango, noci e limone per ridurre lo stress e lansia. Questo frullato antiossidante è ricco di minerali che aiutano i muscoli a rilassarsi, favoriscono la trasmissione neuromuscolare e si prendono cura dei vasi sanguigni. . . Tutti questi benefici si devono alla combinazione del magnesio, contenuto nel mango, e agli alti livelli di vitamina C, forniti dal limone. . Grazie agli enzimi e ai minerali del limone, del mango e delle noci, riuscirete ad alleviare l'agitazione, il nervosismo e combatterete inoltre l'insonnia. . . Dovete sempre ricordare che gli effetti di questi frullati naturali sono cumulativi. Ciò significa che, se vi abituate a bere una o due bevande contenenti questi ingredienti ogni giorno, poco a poco ne noterete i benefici. . Ingredienti. 1 mango Il succo di 1 limone 4 noci 1 bicchiere d'acqua . Procedimento. . La prima cosa da fare è trovare un mango che non sia né troppo acerbo né troppo maturo. Una volta trovato, sbucciatelo, togliete il seme centrale e tagliatelo a pezzetti, per poterlo frullare più facilmente. . Dopodiché, spremete il succo del limone e preparate le noci. Sbucciatele e tritatele un po', affinché si amalgamino meglio con il resto degli ingredienti. . Ora, prendete il frullatore e versateci l'acqua, il succo di limone, il mango a pezzetti e le noci tritate. Frullate per qualche secondo o fino ad ottenere una bevanda omogenea. . Vi consigliamo di bere questo frullato la mattina o a metà pomeriggio, quando tornate a casa. Frullato di avocado, fragole e tofu per combattere lo stress e l'ansia. . . Di sicuro, uno degli ingredienti di questo frullato vi avrà lasciati un po' perplessi, il tofu. Vi interesserà sapere che il tofu è uno degli alimenti più ricchi di calcio, un minerale ottimo per combattere lo stress e l'ansia. . . Grazie agli alti livelli di calcio, donerete al corpo il giusto equilibrio elettrolito necessario per controllare il nervosismo e regolare il rilascio di ormoni. . Se, inoltre, abbinate il tofu alle proprietà dell'avocado, ricco di omega 3, riuscirete a controllare l'ansia grazie al suo effetto rilassante. . 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 4 foglie di lattuga 2 pomodori 2 foglie di prezzemolo 1 gambo di sedano 1 bicchiere d'acqua, 200 ml. Procedimento. La prima cosa da fare è lavare bene tutte le verdure. Scegliete quelle più sane e, dopodiché, tagliatele a pezzetti per poterle frullare più facilmente. 5 foglie di lattuga. Mettete nel frullatore i pomodori e le foglie di lattuga, insieme al sedano, alle foglie di prezzemolo, ne basta poco per ottenere un sapore intenso, e il bicchiere d'acqua. Frullate fino ad ottenere una bevanda omogenea e, se volete, potete aggiungere dei cubetti di ghiaccio. È una bibita rinfrescante che vi aiuterà a svegliare la mente e a disintossicare l'organismo. L'ideale per iniziare la giornata. Grazie per la visione!